Di che santo sei da voi? E io vengo dai Salisiani, Don Bosco, e questo lo sappiamo, ma quali santi ce ne sono tanti? Allora adesso ti faccio uno scherzo. E dico a Minenza, sapendo che nella lista dei santi ufficiali già catalogati ci sono sette fratelli, i sette servi di Marita, di Vicenza. Allora gli dico a Minenza, io sono un genoveglie, vado alla grande, sono devoto addirittura di sette fratelli tutti insieme. Ma che bravo Gallo, hai scelto i sette servi di Vicenza. No, veramente non sono di Vicenza. No, non ce n'è altri. Allora io ce l'ho sempre dietro. Aspetta Minenza, la faccio vedere. I miei santi sono anche matri, i sette fratelli di Cervi. E' rimasto, rimasto. Ecco, via, 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 via. A volte quando valevano i stupati trovo sempre il figlio bianchino.